SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzate in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC e a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotec, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia, nella refrigerazione industriale. Non si ferma la scia di sangue sulle strade della Romagna. Due persone anziane hanno perso la vita a Roncalceci, nel Ravennate un'altra in gravi condizioni all'ospedale. L'auto su cui viaggiavano si è schiantata in un fosso. Un tuffo poteva costare la vita a due amiche 26 anni. Le giovani si sono buttate in un allago a Rimini proibito, dove l'acqua è troppo bassa, rimediando gravi ferite. Brutte notizie per le casse del comune di Cesena. La Cassazione ha confermato la nullità della concessione per i ristoranti Gessi e l'amministrazione dovrà risorcire i gestori. Negli ultimi tempi le spiagge di Cervia Pinarella e Tagliata nel Ravennate non sono più frequentate da venditori abusivi. Un risultato che gonfia il petto della polizia municipale e locale, raggiunto con misure efficaci. Successo di pubblico al Teatro Diego Fabri di Forlì per lo spettacolo dell'attore americano John Malkovich. La sua voce intensa ha stregato tutti nello spettacolo Report on the Blind. Ciclismo si rinnova la partnership tra il team Androni Giocattoli e Sidermec, una collaborazione che permetterà alla squadra romagnola di proseguire con maggiori prospettive la propria attività anche nella prossima stagione. Questo è il telegiornale della Romagna, in studio Elisabetta Zandoli. E ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro notiziario. Purtroppo non si ferma davvero la scia di sangue sulle strade della Romagna. Due persone hanno perso la vita in un incidente a Roncalceci nel Ravennate. Sentiamo. Ancora una tragedia stradale in Romagna. Due persone anziane, un uomo, una donna di 88 e 72 anni, probabilmente parenti, hanno perso la vita in un tremendo schianto accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì a Roncalceci nel Ravennate. Un altro uomo di età avanzata è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo le 13, l'auto su cui viaggiavano le vittime, una Fiat Panda, avrebbe sbandato finendo in un fosso accanto alla strada dopo aver attraversato tutta la carreggiata. L'autista ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una curva su una strada di campagna, forse per un malore o per una distrazione. Le due vittime, Francesco e Maria Caroli, residenti nel Faentino, sono morte sul colpo. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, con ambulanze, auto col medico e dell'imedica. I vigili hanno estratto i corpi dei due anziani e tirato fuori il terzo uomo a bordo del veicolo. I sanitari lo hanno stabilizzato sul posto per poi trasportarlo in elicottero a Cesena. La Polizia Municipale di Ravenna ha operato invece i rilievi di legge per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto. I carabinieri hanno chiuso la strada del sinistro per permettere i soccorsi. E un'altra tragedia, questa volta sulle strade Cesenati, nel tardo pomeriggio di ieri. Nei pressi di via Capannaguzzo due persone hanno perso la vita. Un'altra è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale. All'origine del dramma, lo schianto tra una furgone e un camion in un incrocio tra strade di campagna. Uno dei due mezzi è finito contro un palo della luce. Per due occupanti non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute subito diverse ambulanze e l'elimedica da Bologna, oltre ai vigili del fuoco, chiuse le strade interessate. Due 26 anni riminesi sono stati trasportati al Bufalini di Cesena dopo un tuffo in un lago proibito dove l'acqua era troppo bassa. Un tuffo che poteva costare la vita a due amiche 26 anni riminesi. Lo chiamano lago azzurro, anche se in origine era una cava di estrazione. E il blu intenso delle sue acque invoglia chi, con la calura estiva, ricerca un'alternativa al mare. Eppure la balneazione è vietata, con tanto di cartelli e recinzioni ad indicarlo. Ma puntualmente ogni giorno c'è chi li ignora. Era il tardo pomeriggio di martedì quando due giovani, nell'intento di imitare un amico che si era da poco tuffato da un dirupo, hanno raggiunto un rialzo del terreno che forma un trampolino naturale sul lago, alto 15 metri. Nessuno sapeva però che la profondità dell'acqua in quel punto era troppo scarsa per un volo da quell'altezza. E così le ragazze hanno violentemente sbattuto contro il fondale melmoso, ferendosi gravemente. Incapaci di tornare a riva, sono stati allertati i mezzi di soccorso e si è resa necessaria l'eliambulanza di Ravenna per il trasporto della ferita più grave al Bufalini di Cesena. La ragazza avrebbe riportato un violento trauma all'arachide cervicale e delle lesioni alla spina dorsale, mentre l'amica una frattura scomposta alla caviglia. Nella notte scorsa dei ladri, per ora ignoti, hanno tentato di svaliggiare una tabaccheria di Bellari e Giamarina, ricorrendo a una BMW come a Riete per lo sfondamento della vetrina. L'auto era stata rubata poco prima nello stesso comune. La presenza di manufatti antisfondamento in cemento armato ha però ostacolato l'operato dei malviventi. Dopo alcuni tentativi la banda è fuggita, rinunciando al colpo e ha abbandonato il mezzo a qualche centinaio di metri di distanza. Sul caso ora indagano i carabinieri. Doccia fredda per il comune di Cesena. La Cassazione ha confermato la nullità della concessione per i gessi e l'amministrazione dovrà risarcire i gestori. Davvero un'annosa questione. Allora, vediamo com'è andata. La sentenza della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal comune di Cesena e ha confermato la condanna in secondo grado per la cosiddetta vicenda dei gessi. L'amministrazione comunale dovrà risarcire i gestori della società al monte che avrebbe fatto una richiesta di circa 4 milioni e mezzo di euro. Occorre ripercorrere però lo scontro giudiziario iniziato nel 2001 quando il comune emise un bando per la concessione di un'attività di ristorazione vinta dalla società con la quale il comune stipulò poi il contratto nell'agosto del 2002. In quella fase vennero date autorizzazioni temporanee per alcune opere di riqualificazione come la costruzione di una veranda successivamente poi invece dichiarate illegittime. L'attività nel 2009 fu chiusa per la mancanza del certificato di agibilità definitiva e la veranda venne rimossa decretando di fatto la fine dell'attività del ristorante che proprio in quegli spazi aveva la maggior parte della ricettività per la clientela. Il danno che ha ora sancito anche il terzo grado di giudizio sarà quantificato in una successiva valutazione che verrà fatta il prossimo 18 ottobre. Dopo questo passaggio il comune potrebbe esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dell'ex dirigente comunale del settore patrimonio ora in pensione. La valutazione del danno poi potrebbe essere contestata dal comune o dalla società allontanando ulteriormente la parola fine da questa annosa vicenda. La Guardia di Finanza di Faenza nel Ravennate ha scoperto un giro di fatture false per oltre un milione di euro. Sei persone sono state denunciate e sono stati sequestrati beni per un valore di mezzo milione di euro. L'indagine ha riguardato un gruppo di cinesi che emetteva e utilizzava fatture per operazioni inesistenti attraverso una ditta individuale risultata utilizzatrice delle fatture e operante nel settore della fabbricazione di poltrone e divani. Le fatture relative ad operazioni inesistenti emesse da imprese cartiere ammontano ad oltre un milione di euro. Contenimento dei fatti più gravi e dei reati predatori a dichiararlo il questore di Forlillo, Retta Bignardi, ieri sera alla nostra trasmissione Cavalli in Pista. C'è un contenimento dei fatti più gravi, soprattutto dei reati predatori. Vogliamo naturalmente incontrare anche una convinzione da parte delle persone che si sentano in un posto sicuro e questo non è sempre facile farlo. Chiaro che noi stiamo affrontando i problemi della sicurezza e della prevenzione in contemporanea. Prevenzione in maniera generale sui reati e poi sicurezza anche sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica. In sostanza, da un lato come prevenire il furto, la rapina, lo scippo, quello che sia. Dall'altro come gestire gli eventi che recentemente sono stati anche alla ribalta. Parlo dei grossi eventi, grossi concerti. Nella Notte Rosa abbiamo potuto vedere in qualche modo come si poteva organizzare un evento con più di 20.000 persone cercando di garantire che tutte le cose che devono funzionare in una situazione del genere, come ci è stato anche ampiamente suggerito, prescritto con delle direttive specifiche, venisse in qualche modo garantito. Un giovane senegalese ha consumato pagando 150 euro un rapporto sessuale nell'appartamento forlivese di una prostituta dominicana. Poi, alcune ore dopo, si è ripresentato a casa della donna e minacciandolo con una pistola si è fatto consegnare 120 euro in contanti. Per circa un'ora, secondo la denuncia della prostituta, lo straniero si è trattenuto nell'abitazione sempre tenendo sotto tiro la padrona di casa. I carabinieri hanno ben presto individuato e fermato il giovane nelle sue tasche e hanno trovato 120 euro a una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Il senegalese, riconosciuto dalla vittima, è stato arrestato per rapina aggravata e sequestro di persona. Negli ultimi tempi, le spiagge di Cervia Pinarelle Tagliata non sono più frequentate dai venditori abusivi. Abbiamo chiesto come si è arrivati a questo risultato al comandante della Polizia Municipale di Cervia, Sergio Rusticali. Ci troviamo sulla spiaggia di Cervia per parlare con il comandante della Polizia Municipale di un argomento che tocca molto i turisti dell'estate, ovvero i venditori abusivi. È nata una domanda in redazione, come mai sulle spiagge di Cervia non si trovano più i venditori abusivi? Alla fine dell'estate del 2015 il prefetto ha voluto dare un'impronta molto importante, soprattutto utilizzando la parola chiave della condivisione degli obiettivi. Abbiamo iniziato questa lotta con fasce parallele alla battigia del mare. Quindi sulla spiaggia c'era l'intervento massiccio della Polizia Municipale, l'intervento della Capitaneria di Porto, nelle fasce retrosanti sempre la Polizia Municipale assieme alle altre forze di Polizia, la Polizia di Stato, l'arma dei Carabinieri che facevano in modo di eliminare i rifornimenti che venivano dati a questi venditori ambulanti e ancora più a monte la Guardia di Finanza ha fatto degli importanti sequestri per evitare i propri punti di fabbricazione di questo materiale che venivano venduti sulla spiaggia. Come avviene quotidianamente questa lotta proprio sulla spiaggia? Noi abbiamo occupato fisicamente la spiaggia, non militarizzato. Abbiamo messo dei punti di legalità con dei gazebo, con del personale che dà informazioni alla cittadinanza. Se ci siamo noi non ci sono i venditori abusivi. E a proposito di spiagge, ma non solo, parliamo di Bolkestein. Possibile evidenza pubblica nel 2019 anche per i chioschi di Piadina, oltre che per i bagnini e gli ambulanti. Facciamo il punto. Come per i bagnini e gli ambulanti, che svolgono la loro attività su area pubblica, anche i chioschi di Piadina dovranno affrontare la direttiva Bolkestein partecipando ad un'asta pubblica che, con tutta probabilità, si terrà nel 2019. Solo sul territorio cerveza sono circa una cinquantina i chioschi interessati che potrebbero essere così acquistati dal miglior offerente. Sul futuro di queste strutture, che richiamano la forma delle cabine da spiaggia e che sono diventate un vero e proprio simbolo della Romagna, è però ancora molta l'incertezza e nemmeno le associazioni di categoria hanno indicazioni precise rispetto al da farsi. Quello che è certo è che questo tipo di prodotto continua ad attirare turisti, ma non solo. Anche molti residenti, infatti, messi da parte ai testi e fornelli, si affidano sempre di più ai chioschi che, in molti casi, possono vantare la certificazione GP. Per il momento, comunque, nonostante le incertezze, la stagione prosegue all'insegna di una buona attività, grazie anche al meteo, che mitiga, almeno in parte, l'apertura serale degli stabilimenti balneari che, a detta di molte addette ai lavori, avrebbe sottratto clienti ai chioschi di Piadina. Si è tenuta ieri a Forlì una conferenza stampa indetta dal WWF per fare il punto sulla situazione di due punti di estrema importanza per la città e i cittadini, via Emilia Bis e zona traffico limitato. Le linee guida del piano urbano della mobilità sostenibile a Forlì analizzate sotto diversi punti di vista. Questo è l'obiettivo del tavolo delle associazioni ambientaliste TAF che ha voluto dire la sua sul piano territoriale, ma anche sulla gestione delle zone a traffico limitato e pedonalizzate del centro. Per quanto riguarda la via Emilia Bis, ci sono pareri favorevoli. Nel comune di Forlì sono previste due collegamenti tra la via Mattei da una parte con la circovaluazione di Forlì in Popoli e dall'altra con la via del Bosco che conduce a Carpinello. Sono due varianti accettabili perché gravano la frazione di San Leonardo da traffico pesante aumentando la sicurezza. Riteniamo che la priorità per Forlì e per il nostro territorio sia comunque il completamento degli assi tangenziali e quindi a questi vanno gli investimenti e non prioritariamente alla via Emilia Bis da Forlì in Popoli e Cesena. Il TAF sostiene anche che è necessario valorizzare il trasporto pubblico locale e dare priorità alla realizzazione della pista ciclabile tra Forlì in Popoli e Cesena. Diverse invece le opinioni per quanto riguarda il centro storico di Forlì. Ci sono norme chiare dell'Europa e della regione che dicono che al 2020 la ZTL attualmente limitata a una porzione del centro storico dovrà essere ampliata alle porte e il 20% di questa ZTL del centro storico dovrà essere integralmente pedonalizzata. Le nostre proposte vanno per un'attuazione graduale di questa transizione ad una pedonalizzazione più ampia. Rimaniamo a Forlì per parlare però di tutt'altro argomento ci occupiamo ora di spettacoli. Ieri sera al teatro Diego Fabri per Emilia Romagna Festival si è esibito con una prima nazionale l'attore americano John Malkovich. Vediamo com'è andata. Una voce intensa e piena così come la sua presenza sul palcoscenico del teatro Diego Fabri di Forlì. John Malkovich si è presentato con un abbigliamento classico vestito grigio, testa rasata e pizzetto bianco è il modo di fare che tanto ha distinto i suoi personaggi seduttori e ambigui. Accompagnato dal piano di Anastasia Terenkova che vanta diversi riconoscimenti internazionali e i solisti aquilani che sono riusciti a dare con la loro musica il senso di inquietudine che hanno accompagnato il monologo scritto da Ernesto Sabato. John Malkovich ha incantato la platea forlivese con il suo Report on the Blind, spettacolo in anteprima europea. A dirigere l'orchestra Alvise Castellani considerato uno dei talenti emergenti degli ultimi anni. Ha sicuramente aggiunto una stella in più nel panorama di personaggi che costellano l'Emilia-Romagna Festival e che continua la sua programmazione fino al 9 settembre toccando con i suoi spettacoli diverse città della regione. Abbiamo chiesto a due giovani avventurosi di Samigliano sul Rubicone di inviarci un video stile diario di viaggio per raccontare la prima tappa del loro straordinario percorso un tour che li porterà in Europa e nel Nord Africa con un mezzo molto speciale, il mitico ciao. Un'avventura che ha dell'incredibile un viaggio che se ne parli al bar la risposta dell'adulto medio, forte della sua esperienza di vita sarebbe ma che matti, non ce la faranno mai quei motorini non resisteranno. Infatti i fratelli Lorenzo e Mattia Baiocchi sono partiti da Samigliano sul Rubicone a pochi chilometri da Cesena direzione Germania, Francia, Olanda e poi Spagna e Marocco. I ragazzi hanno inviato alla redazione di TR24 un video diario del loro primo giorno di viaggio. Questi sono i nostri ciao con la quale abbiamo deciso di percorrere il viaggio li abbiamo strutturati con borse di ogni genere legacci di ogni genere, una tannica a testa completi di pezzi di ricambio abbiamo avuto piccole fermate, disavventure la scorsa notte per la partenza, per i primi 100 km abbiamo beccato una buca per strada e si ha letteralmente piegato un cerchio adesso pensavamo di appostarci per dormire in questo parco vediamo come saranno le prossime giornate intanto per questa giornata direi che ci siamo divertiti parecchio abbiamo avuto modo anche noi di chiacchierare divertirci, ridere anche delle nostre disavventure speriamo che questo viaggio possa cambiare noi come possa far capire alla gente che con anche un ciao con una piccola cosa insomma si riescono a compiere grandi azioni e dopo questa bella avventura iniziata per i due giovani cesenati ora altre notizie con le nostre brevi Ravenna, la polizia municipale ha sequestrato 30 kg di cocco pronto per essere venduto dai commercianti abusivi sulla spiaggia di Lido di Savio e Lido di Classe sono stati necessari 10 agenti per rintracciare 4 uomini detti al commercio itineranti puniti ora con una contravenzione da 9.000 euro questa notte intorno alle 2 i carabinieri hanno arrestato un flagranza di reato un trentenne piemontese mentre si trovava in una stanza di albergo per compiere un furto ora la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima Rimini a Bellaria i carabinieri hanno arrestato un 21enne albanese perché è trovato in possesso di 2,7 grammi di cocaina suddivisa in 6 involucri e 50 euro probabilmente frutto della vendita degli studiocenti per assicurarsi la fuga poi il giovane ha aggredito i militari anche se questi sono riusciti a bloccarlo Forlì l'anticorruzione censura era per delle criticità relative agli appalti e il sindaco forlivese Davide Drei risponde si conferma la bontà, la lungimiranza e la correttezza delle scelte operate dal nostro territorio che hanno portato alla costituzione di un'entità direttamente gestita dai comuni È il momento dello sport, sentiamo le ultime Ben trovati su TR24 Sport In apertura una notizia di ciclismo Il dado è tratto Sidermec farà ancora parte del team Androni Giocattoli anche per il 2018 rinnovando così il proprio impegno per questa squadra che tanti risultati ottimi ha già colto nella prima parte di questa stagione Vediamo Anche per il 2018 Pino Buda e la Sidermec saranno al fianco della squadra ciclistica professional allestita da Gianni Savio come secondo sponsor dopo Androni Giocattoli L'accordo è stato siglato a Sant'Angelo di Gatteo nella sede dell'azienda con una stretta di mano come si fa tra galantuomini in Romagna Abbiamo rinnovato il contratto per la prossima stagione agonistica dell'Androni Giocattoli Sidermec Ringrazio l'amico Pino Buda, il signor Sidermec per la rinnovata fiducia signor Pino Buda, l'amico Pino Buda è un galantuomo di stampo antico e mentalità moderna è un grande sostenitore del nostro sport ma direi che il suo intervento trascende un po' lo sportivo per entrare nel sociale Continuo ad andare avanti proprio per poter dare lavoro alla gente Qui il nostro governo pensa di far partire l'Italia ma se l'Italia non dà lavoro se non vengono ridistribuite le ricchezze come si può andare avanti? Distribuire le ricchezze non significa dare soldi a pioggia ma significa dare lavoro e io credo di dare lavoro E tutto ormai è pronto a Martorano per la ripresa delle attività del Romagna Centro Il club Cesenate che affronterà dunque il quinto campionato consecutivo in Serie D e lo farà agli ordini del nuovo tecnico Nicola Campedelli con il raduno in programma per domani mattina sul campo principale del centro sportivo Romagna Centro Un organico, quello biancazzurro, che intanto si arricchisce di due nuovi elementi come l'attaccante esterno Simone Braccini, ex San Marino che vediamo proprio nella foto o il centrale difensivo classe 1998 Lorenzo Villa quest'ultimo proveniente dalla primavera del Carpi ma parliamo anche del penultimo appuntamento del tour calcio di strada organizzato dalla pagina Facebook Calciatori Brutti che ha fatto il boom di partecipanti a Rimini soddisfatti i fondatori Danieli Roselli ed Enrico Modica sentiamo proprio quest'ultimo nel servizio Abbiamo deciso insomma di fare un evento un po' più sul campo dopo aver fatto successo sulla pagina Instagram e Facebook con un milione e 600 mila fan abbiamo deciso finalmente di incontrare un po' i nostri fan attraverso questo evento che si chiama i giochi del calcio di strada che si compone di sei discipline tutti quei giochi che si facevano un po' da bambini come la tedesca che è a Rimini ci hanno detto si chiama un po' volo, 21, scalare abbiamo la gabbia 3 contro 3 che è una classica partitella 3 contro 3 il pool soccer, diciamo un po' la modernità per tutti quei giocatori un po' pigri che è il calcio biliardo insomma il calcio biliardo bisogna imbucare la 8 attraverso le sponde, le mezze, le piene il tiro di precisione in cui bisogna centrare attraverso dei tiri, dei copertoni e il torello che è una disciplina di riscaldamento insomma tantissimi ospiti tra cui Ubner, Altaffini e anche Gianluca Di Marzi io ho avuto il piacere di giocare con Darione Ubner a calcio tennis e nonostante comunque l'età è ancora un fenomeno posso dirlo 15 sigarette prima della partita ma è sempre un gran professionista insomma abbiamo il grande Gianluca Di Marzio con le sue chicche di calcio mercato ancora un po' deluso mi sa per bonucci al Milan però ecco questo è davvero tutto grazie per essere stati qui con noi arrivederci e sentiamo ora le previsioni del tempo Buonasera a tutti i telespettatori di Teneromagna TR24 da Andrea Raggini la prima parte della settimana è stata contraddistinta da alta pressione cieli sereni, sole e temperature decisamente gradevoli con valori freschi di notte soprattutto tra lunedì e martedì la situazione meteo per domani vede ancora l'alta pressione protagonista con cieli sereni al mattino nel pomeriggio avremo un aumento della nuvolosità soprattutto sulle miglia centro-occidentale ma con rare precipitazioni relegate ai settori al confine con la Lombardia temperature in aumento si farà sentire il caldo al mattino avremo temperature comprese tra 16 e più 20 gradi nel pomeriggio picchi fino a 35-36 gradi non saranno da escludere sulle pianure centrali dell'Emilia il caldo si farà sentire almeno fino a domenica quando non sono previste precipitazioni quindi l'alta pressione tornerà a interessare la regione almeno fino al prossimo fine settimana per ora è tutto buona serata da Andrea Raggini prima dei saluti facciamo un breve riepilogo delle principali notizie di oggi non si ferma la scia di sangue sulle strade della Romagna due persone anziane hanno perso la vita a Roncalceci nel Ravennate un'altra in gravi condizioni all'ospedale l'auto su cui viaggiavano si è schiantata in un fosso un tuffo poteva costare la vita a due amiche 26 anni le giovani si sono buttate in un lago a Rimini proibito dove l'acqua è troppo bassa rimediando gravi ferite brutte notizie per le casse del comune di Cesena la Cassazione ha confermato la nullità della concessione per i ristoranti Gessi e l'amministrazione dovrà risorcire i gestori negli ultimi tempi le spiagge di Cervia Pinarella e Tagliata nel Ravennate non sono più frequentate da venditori abusivi un risultato che gonfia il petto della polizia municipale locale raggiunto con misure efficaci successo di pubblico al teatro Diego Fabri di Forlì per lo spettacolo dell'attore americano John Malkovich la sua voce intensa ha stregato tutti nello spettacolo Report on the Blind ciclismo si rinnova la partnership tra il team Androni Giocattoli e Sidermec una collaborazione che permetterà alla squadra romagnola di proseguire con maggiori prospettive la propria attività anche nella prossima stagione è davvero tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo che su tr24.it potete trovare tutte le news aggiornate l'appuntamento è domani mattina alle 7.15 con la rassegna stampa grazie dell'attenzione e una buona serata Infotec il partner HP in Romagna Frigoriferi industriali soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale SIC società italtecnica Cesena da 30 anni specializzate in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati se voi avete un problema noi abbiamo la soluzione SIC e a Cesena in via Olivetti 85 zona industriale Pieve Sestina Grazie a tutti